Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vedremo una maglia di una squadra italiana, del Napoli, per la stagione 22-23, quindi quella che è appena incominciata, la maglia di casa, la maglia che fu di Diego Maradona e oggi è di Ozyman. Dopo aver battuto ogni record in tema di kit utilizzati in una stagione, il Napoli ha svelato le nuove maglie 2022-23, ancora una volta con il marchio EA7, il brand di Giorgio Armani. Il brand di Giorgio Armani, come confermato dal club partenopeo, ha curato la creatività delle nuove divise, mentre la produzione e la distribuzione è gestita dal Napoli. Il design della prima maglia prevede il colore azzurro di base, accompagnato da varie tonalità di blu sulle maniche, fino a diventare blu navi sulle spalle. Il corpo è caratterizzato da una trama con il logo circolare del Napoli ripetuto in serie. La grossa novità di queste maglie è la presenza di una trama con il logo dei partenopei, uno all over del logo al Napoli, con tecnica di stampa caldo su tessuto tecnico traspirante. Non sono un tifoso partenopeo, ma a me la maglia del Napoli piace. Questo colore è veramente molto bello, la maglia secondo me è ben riuscita, anche se rispetto ovviamente ai canoni della maglia tradizionale, però è una maglia che vi consiglio di prendere. Qui in alto vedete il costo, molto molto basso, molto conveniente, per una maglia che è fatta veramente molto bene, questo ci tengo a dirlo, e con una consegna molto veloce, questa è arrivata in 21 giorni dall'ordine alla consegna. Ora vi lascio alla parte in cui vedrete la vestibilità, quindi continuate a guardare il video. Nel frattempo, se il video vi è piaciuto, spero possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quello che vedete è una taglia media della versione Fan.